Ma lei ha sentito il Presidente Sebastiani nelle ultime ore? No, non l'ho sentito, non lo sento da diversi giorni, anzi non lo sento forse da un mese, da quando ho avuto un incontro in cui ho spiegato agli interlocutori che non conoscevo che il Comune di Pescara, come è sempre detto anche in conferenze stampa, sta ragionando sulla riqualificazione dello stadio. Per noi sarebbe il massimo poter trovare chi investe nello stadio di Pescara per migliorarlo nelle sue condizioni, per adeguarlo alle necessità attuali e anche forse per sgravare i cittadini di Pescara da un peso economico importante come quello che il Comune sostiene per lo stadio Adriatico. Quindi se domani dovesse venire il Presidente Sebastiani con dei soci a proporre al Comune e il restyling dello stadio, insomma non ci sarebbero problemi da parte dell'amministrazione comunale. C'è una volontà politica e amministrativa chiara del livello regionale e del livello comunale per la riqualificazione dello stadio. È chiaro che non può decidere soltanto il Comune e non può decidere soltanto la Regione perché la sovraintendenza ha sicuramente molta voce in capitolo e comunque ce l'ha il Ministero della Cultura visto che le normative prevedono anche un intervento eventualmente al Ministero della Cultura per le decisioni del livello di riqualificazione degli Stati. Sindaco, per chiudere potrebbero essere utilizzati dei fondi del PNRR per il restyling dello stadio Adriatico come alcuni sostengono? A oggi non ci sono disponibilità di fondi così importanti per la riqualificazione dello stadio. Ci sono dei fondi per la riqualificazione di impianti sportivi che noi stiamo utilizzando e abbiamo utilizzato e se dovessero uscire altri bandi continueremo ad utilizzare. Fermo restando che se ci dovesse essere una proposta di project di un privato che sia la pesca da calcio perché queste linee normative si riferiscono proprio alle squadre professionistiche della città noi la valuteremo come già stiamo valutando negli incontri che facciamo tutte le proposte che ci vengono dalla pesca da calcio.